Questo è un liceo occupato, in questo momento gli studenti discutono di problemi essenziali della loro vita, discutono di politica, i signori genitori sono pregati di allontanarsi, di ritornare alle loro case, di guardare la televisione, di litigare con le persone... Permesso? 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 Lui mi conosce? Su quello della BAP, ha perso il posto, ha perso il dito, ti ricordi dove vado? Laggiù in fondo, là! Perché lui lo fate passare? Perché lui sì? Sarebbero studenti anche loro? Siamo emigranti siciliani noi. Ehi! Ehi, sono Loulou, sono io! Sono io! Saputo che ho perso il posto? Lo so, lo so! Eh, lo so, lo so, stai qui a dormire, dico ma stamattina potevi venire lì? Non possiamo stare dappertutto. Ma almeno tu? Io faccio quello che posso, siamo ancora in pochi. Ieri eravamo nell'officina, oggi nelle scuole e domani semmai saremo giù. Sì, che è il manicomio, con militina, guarda. Noi cerchiamo col nostro lavoro di fare esplodere le contraddizioni per cambiare questo sistema di vita. Ma mi avete cambiato a me che ho perso il posto. È che fino a quando obbedisci al padrone nessuno ti tocca, eh? Poi a un certo punto prendi coscienza e sei fottuto. Ecco, ma questo lo dovevi sapere, no, Lulu? Non è una novità. Mica scemo, lo so anch'io come stanno le cose, lo so anch'io.